Benvenuti, nel video di oggi parleremo di come Pier Silvio Berlusconi ha rivoluzionato il Grande Fratello VIP. Ma prima di iniziare il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui nuovi contenuti in uscita. Il conto alla rovescia è ormai iniziato per il Grande Fratello, con la nuova edizione in arrivo il prossimo 11 settembre. Pier Silvio Berlusconi, mente dietro il programma, ha deciso di dar vita a un'atmosfera completamente rinnovata, respingendo con fermezza alcune celebrità ritenute pericolose per il suo intento di elevare il contenuto. L'obiettivo è chiaro, dare una svolta ai reality di Mediaset, liberandosi dei protagonisti superficiali che hanno dominato la scena all'interno della casa nel corso degli ultimi anni. Un'onda di cambiamenti si sta diffondendo, e secondo le voci di D'Agospia, potremmo aspettarci una sorpresa nella lista dei possibili coinquilini che varcheranno la soglia della casa più osservata d'Italia. Incredibilmente, sembra che Giampiero Mughini possa entrare a far parte di questa eclettica compagnia. Il giornalista e opinione forte rappresenterebbe senza dubbio un valore aggiunto all'interno del reality, scuotendo le acque e generando discussioni appassionate tra le pareti domestiche. L'11 settembre sarà il momento della verità, quando finalmente scopriremo cosa ci riserverà questa nuova edizione. I dettagli emergeranno nelle prossime settimane, e se la speculazione si rivelerà veritiera, il cast del Grande Fratello subirà una metamorfosi radicale rispetto al passato recente. È innegabile. La rivoluzione orchestrata da Pier Silvio Berlusconi all'interno di Mediaset è entrata ufficialmente in scena. E l'eventuale presenza di Mughini nella casa potrebbe essere un altro segnale chiaro di questa direzione innovativa. Non ci resta che attendere con trepidazione e osservare come si sviluppano gli eventi. A presto!